È iniziata la tre giorni della settima edizione dei campionati italiani di geografia, che per la seconda volta si svolgeranno online e avranno alla regia l'Istituto Superiore Domenico Zaccania di Carrara. La piattaforma didattica che verrà utilizzata sarà CAUT e i giochi saranno individuali. Quest'anno si sono iscritti alunni da 62 province italiane e 18 regioni, con un'alta percentuale di adesioni dal meridione. Ci sono circa 3.200 adesioni, di cui 1.900 delle scuole medie e 1.300 delle superiori, più una cinquantina di open. Quindi un grande successo per questa materia che purtroppo nella scuola italiana è un po' negletta, è un po' disgraziata, perché se ne fa poca. Una delle ragioni per cui noi organizziamo i giochi è proprio questo, non solo per far divertire i ragazzi, e amano molto la geografia e si divertono, ma soprattutto per attirare anche l'attenzione sull'importanza di questa materia che ci offre una visione del mondo più completa e anche più complessa e ci apre la mente e la vista e la mente. La premiazione si svolgerà sabato 1 aprile dalle 10.30 alle 13 presso l'Aula Magna dell'Istituto di Carrara. I vincitori avranno come premio, oltre a gadget e materiale didattico, un soggiorno nel Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano, mentre quelli che vinceranno un concorso per il miglior video parteciperanno al Festival delle Geografie di Levanto ad aprile.